L'unità di crisi della regione Campania ha fatto tappa in Irpinia, prima all'ospedale Moscati, poi a quello di Ariano, a guidare la delegazione. Il braccio destro del governatore in tema di sanità, Luca Coscioni. Anche l'Irpina, Roberta Santaniello, fa parte del team. All'ospedale di Avellino l'attenzione è stata rivolta per lo più all'allestimento della palazzina Alpi. Stanze pronte all'uso, i letti ci sono, tutti e 52, mancano ancora i macchinari. Nonostante il momento così difficile, ho riscontrato un clima di concordia e collaborazione, una grande qualità professionale, i primari sono tutti ben concentrati. Così ha sottolineato il lavoro del manager Pizzuti la delegazione. Coscioni e gli altri si sono poi spostati ad Ariano, dove ieri 16 direttori hanno contestato le strategie sin qui adottate, chiedendo risposte a De Luca e dai consiglieri regionali Irpini. Al termine dell'incontro l'Asla e la regione stessa hanno diramato una nota stampa nella quale si leggono gli impegni prossimi. L'attivazione domani di quattro posti di terapia intensiva ed altri dieci tra terapia intensiva e subintensiva la prossima settimana. La delegazione si è anche impegnata al trasferimento di cinque ventilatori polmonari ad Ariano e dispositivi di protezione individuale per tutti i sanitari che dalla prossima settimana saranno sottoposti a tamponi veloci. Dopo gli accorati appelli e le prese di posizione dunque, il messaggio che arriva dalla regione è, le difficoltà ci sono, ci impegniamo a tamponare l'emergenza.